Buongiorno a tutti quanti voi, benvenuti all'almanacco di oggi, giovedì 19 ottobre 2017. La parte mia da Vittorio Casinesi, il ben ritrovati. Voglio ricordarvi che oggi è il 292esimo giorno dell'anno e la Chiesa ricorda San Paolo della Croce e Santi Martiri Canadesi. Il sole è sorto alle 7.27, tramonta alle 18 e 19, la luna è nuova. Il proverbio del giorno è il seguente, l'amore è la chiave principale che apre tutte le porte dell'impossibile. Molti amici dal mio profilo Facebook, quello di Vittorio Casinesi, festeggiano il compleanno. Quindi vado a fare tanti auguri a Zidane Kentit, Valeria Ferrara, Mari Castella, Ilario Mazzilli, Raffaele Gazzillo, Daniela Musicco e Ernesto Guzmai. Approfitto anche per fare tanti auguri a quelle persone che festeggiano una qualsiasi altra ricorrenza e voglio ricordarvi, come sempre, visto che le dirette sono quelle che non si sprecano, di collegarvi domenica mattina dalle ore 10 alle ore 12 sul mio profilo Facebook, quello di Vittorio Casinesi. Con me c'è la diretta video show insieme alla simpatica Vanda di Matti. Questi amici si stanno preparando, si stanno organizzando, faranno ovviamente un po' di cacciara, come si dice dalle nostre parti. Ci divertiremo, ma non mancherà ovviamente la protagonista di questa nostra trasmissione, di questo contenitore. Ci sarà la buona musica, i vostri saluti, gli auguri, le richieste, il canta che ti passa, sapete che cos'è, no? Il karaoke fatto al momento per divertirsi insieme. I vostri commenti live con un po' di chiacchiericcio, il gossip, come dicono gli inglesi, che non guasta mai. E poi avremo degli ospiti a sorpresa, vi posso assicurare che ci saranno degli ospiti a sorpresa. Poi contatti telefonici, qualche notizia, giusto per rimanere informati, che non guasta mai altrettanto. In tempo reale, tutto in diretta video show, con me Vittorio Casinesi. Per info, voglio anche ricordarvi che se volete partecipare, oppure magari nell'almalacco di oggi, o domani, o qualsiasi altro giorno, C'è qualcuno che festeggia il compleanno, potete già inviare tramite Whatsapp, o un messaggio audio, o un messaggio video, o un messaggio scritto al 347-6215-614, oppure eventualmente un'email a casinesi-alice.it Pagina Facebook, Youtube, Vittorio Casinesi. Iscrivetevi, è gratuito, alla pagina Youtube di Vittorio Casinesi. Noi naturalmente vi ringraziamo e vi do appuntamento alla prossima occasione. Ciao a tutti e buona giornata!